Oggi sarai sul palco. Oggi sarà emozionante. Parliamo del palcoscenico su cui Dio ti metterà. Il tuo palcoscenico. Il palcoscenico sul quale oggi non ci sarai che tu. Se Dio ti darà questa opportunità avrai la meravigliosa occasione di parlare alla gente di Un Miracolo ogni giorno. Perché vogliamo aiutare le persone a trovare una famiglia in cui crescere ed essere amate. Chiedi loro se puoi iscriverli gratuitamente a Un Miracolo ogni giorno e aiutali a fare i primi passi nella fede. Preghiamo oggi in modo specifico perché le persone trovino Gesù. Perché Gesù è molto contento di ogni nuovo membro che si unisce alla famiglia. Sei con noi? Ora potresti pensare non ho molte occasioni per parlare di Gesù alla gente. Non salgo sui palchi come fai tu Deborah. Allora ok oggi possiamo lavorarci su questo pensiero perché sai qual è stato finora il più grande palcoscenico della mia vita? Sai dove mi ha visto la maggior parte delle persone? Dove ho dovuto subire il maggior numero di critiche ma ho anche ricevuto il maggior numero di elogi e sono stata in grado di parlare di Gesù al maggior numero di persone? Nella vita di tutti i giorni. La vita di tutti i giorni è il palcoscenico più grande su cui potrai mai salire e spesso non ti rendi nemmeno conto delle cose meravigliose che Dio può fare mentre tu nella vita di tutti i giorni racconti a una persona ciò che Gesù ha fatto per te. Magari subito dopo averle parlato potreste prendere strade diverse e non vedervi mai più ma puoi essere certo che il Dio che ha lasciato tracce nella tua vita lascerà tracce anche nella vita della persona a cui hai parlato di lui. Ecco perché oggi vorrei incoraggiarti perché è così 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 importante che tu parli della speranza che hai in Gesù nella tua vita quotidiana e per questo ti auguro qualcosa di molto speciale attraverso le parole di Paolo or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Romani 15 13 e forse sarai l'unico in grado di parlare proprio a quella persona che incontrerai oggi dell'amore meraviglioso di Dio della vera speranza di Gesù. Lo farai allora? Preghiamo per questo. Gesù mi sono appena resa conto che oggi mi metto su un palcoscenico molto significativo la mia vita quotidiana. Aiutami a riconoscere sia a percepire i momenti in cui vuoi che io canti da solista. Togli il tremore dalla mia voce e aiutami a cantare con sicurezza e allo stesso tempo con sentimento di quanto tu sei meraviglioso. Spirito Santo opera attraverso di me oggi e fammi sperimentare come questo cambia le persone. Sono pronto. Amen. La vita di tutti i giorni è il più grande palcoscenico su cui tu potrai mai salire. Grazie di esistere Deborah. Grazie a tutti.